I pericoli per i bambini possono arrivare anche dai loro stessi padri, che spesso tornano a casa ubriachi e fanno violenza sui più piccoli. Il centro denuncia queste violenze e la polizia interviene, a volte con metodi poco ortodossi. Una giornata in cella servirà a smaltire la sbornia, ma probabilmente non a cambiare la situazione. Non appena fuori cercherà di nuovo, come ha fatto oggi, di vendere le porte della sua casa per comprare alcolici e forse vecchierà di nuovo la moglie e i figli, che cercheranno di impedirglielo.